e soprattutto c'è gente come me che fa finta di non conoscervi Victoria e io fammi, ma che bontà! Eh? Cosa c'è nella padella? Mmmmm, che bontà mio! Ma c'è una pezzettina? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa metterò qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino metterò qua? Ma che bontà! Ma che cosa metterò qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino metterò qua? Sì, sanno delle anni? No! Sì, buvino della gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Eh! Mmmmm! Eh! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che fiammalog Latetide! In cantina non ci metterò mai Eh? Bella ce qui! Un vino di una bontà! Pensa già a mancettino! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa che sentnerò qua? Ma che bonità! Ma che bontà! Ma che gostino metterò qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questo rovino qua? Ma che contatto? Ma che contatto? Ma che cos'è questo rovino qua? Parola delle lande? No. All'articolo dell'elba? No. Ma che cosa sarà mai questo rovino qua? Ma che cos'è questo rovino qua? Ma che cos'è questo rovino qua? Ma che cos'è questo rovino qua? Ma che bontà, 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 ma che bontino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacà della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacà. Grazie.